Con il fatto che quest'anno i saldi sono iniziati presto, prima del solito, noi ci auguriamo che le persone capiscano la nostra situazione, ci vengano a trovare, troveranno un sacco di occasioni, un sacco di cose nuove, belle, che fanno parte ancora tutta della collezione di quest'autunno e inverno e ci proviamo con tutta la buona volontà possibile e immaginabile, sempre tenendo conto delle chiusure e delle aperture che il governo decide di giorno in giorno. Sicuramente il flusso della clientela sarà molto minore rispetto agli altri anni, essendo che vivendo tutta questa situazione le persone hanno paura nell'uscire e venire nei negozi. Aspettiamo che questa situazione si risolva più presto e che si ritorni alla normalità e che possiamo stare in negozio tranquillamente, liberamente e che facciamo tanti soldi. La prospettiva è molto positiva perché comunque nonostante l'anno difficile, le scarpe è un articolo che serve innanzitutto e siamo partiti anche con degli sconti molto importanti, visto che comunque è stato un anno complicato e vogliamo andare anche incontro alla richiesta del cliente. Una cosa che ho notato che trovo molto bella è che c'è affluenza, abbiamo tanti clienti che comunque stiamo contingentando gli ingressi come ci sono le regole da rispettare, abbiamo anche il gel lavamani dietro le signore, però la prospettiva è positiva. Noi siamo super contenti e non vediamo l'ora di accogliere tutti i clienti qui da noi. Noi! 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 Noi!